Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in esterna. Eccoci qua, come si vede siamo in esterna perché siamo a Viareggio, c'è quel bel caldino di quello che proprio ci dà fastidio anche alla Gargarozza e c'è il buon amico Piero qua che sta ridendo come un matto non si capisce perché. Piero oggi non c'è da leggere le domande quindi siamo fortunatissimi. Siete fortunati. Siamo fortunati perché il nostro amico Piero quando legge le domande è veramente il number one. E me le studio anche. E se le studi anche. Figuratevi un po' se non dovesse leggerle prima. Cosa abbiamo Piero? Faders. Ah bello, quanto l'hai pagato tanto? Mi è costato due stipendi. Ah sì eh? Eh faticosi stipendi. Dile la verità. Me l'hai regalato tu. Bravo poi dopo dicevo che gli regalo mai niente. E' carino dai. Sì sì è molto carino. Ok invece io che rologgio? Tu hai lo scappamento Omega Deville con calibro 2500 o derivato del 2500 con il suo bellissimo bracciale armadillo. C'è chi piace c'è chi non piace. Ma non ci piace. Ciao scappamento. Ciao scappamento acquassiale. Adesso dove andiamo? A prendere il caffè. Cosa siamo venuti a fare noi in negozio oggi? Ci saranno delle novità che io non so come sempre. Come non le sai? Le dovresti sapere no? Perché le dovresti? Ci sono delle novità magari. Io più che altro ho visto su Instagram che c'è un Iema bianco nuovo uscito. Eh l'ho visto anche io. Quello lì mi capirebbe vederlo. Però intanto siccome oggi abbiamo parcheggiato in zona. Sì siamo qua. Siamo proprio davanti in qua tra la 50 metri. Il negozio è lì. Che bello. Oggi abbiamo parcheggiato. Non dobbiamo camminare cosa facciamo? Andiamo a prendere un caffè. Andiamo a prendere un caffè. Con l'emozione non camminare troppo. Vai. E' caldo cosa dobbiamo camminare? Eh. Buongiorno. Perché andavo a prendere il tempo. Perché vai via? Il caffè chi ce lo dà? È arrivato, è arrivato. Eh. Quindi vorresti il caffè anche te? E a me mi tocca portare sempre lo zaino, lo zaino. Cioè se tu chiami uno ai viareggici ma dov'è la quinta? Mi sono un'ecchietta lì. Ci voleva. Oggi per la prima volta apriremo il negozio insieme a Giaco. Come andiamo dai? Andiamo. Guardiamo lo yama bianco, gli uvo verdi. E cosa c'è? Cioè non sei che apre le acque o aprire le persiane. Che spiritolo. E luce fu. Eccoci qua in un batter d'occhio abbiamo allestito il tavolo che qua ci abbiamo gli arretrati. Siccome l'amico Giaco mi ha dato vacanze in Sardegna, no? Tutti gli orologi che gli sono passati per la testa li ha messi sul tavolo. E qua andiamo avanti delle ore cercheremo di essere un po' veloci perché c'è un tema. C'è un tema ben preciso a questa puntata. Qual è il tema Piero? Il tema svolgimento. Perfetto. Piero è sempre preparatissimo. Il tema è l'estate, i diver e il colore. Mettiamo tutto insieme e guardiamo sul tavolo cosa c'è. Andiamo. Allora, io prima di passare al colore, ecco prima di passare ai colori. C'è la novità che a me è quella che l'ho vista su Instagram e che mi è piaciuta, che l'ho detto anche prima, è lo Yemma bianco. Mi piace. Si, Yemma bianco, colore ovviamente nuovo per quanto riguarda Yemma perché erano abbastanza scuri, erano tutti blu, neri e poi se vuoi ti ho già preparato accanto anche il verde. Quello verde? Che è un altro colore nuovo e così lo facciamo vedere, sì. Yemma si contraddistingue perché non solo è un diver, ma è un diver stile vintage con una portabilità eccezionale. No, questi qua sono 500 metri, no? Sì, ma guardateli spessore. Infatti, lo spessore è veramente 11 mm, dicono. Poi bianco, io perché l'ho voluto vedere bianco? Verde è bello perché insomma si sa, si conosce quello qua, la leggibilità del verde c'è. Con questi accenti così a contrasto c'è verde. Il bianco perché di solito ho sempre i miei dubbi sul bianco, ma su questo qua invece, come potete vedere, gli accenti sono bordati di nero e quindi, eccolo qua, è tutto perfettamente leggibile. Eccolo qua, bello. Mi piace il bianco, eh? Sì. Questo qua è 39, li fanno sia 39 che 41 questi. Quindi uno può scegliere quello che vuole. Sì, sì, è vero. Questo è 39. A me piace il bianco, questo qua è promosso. Poi adesso tocca a te, ti passo la parla a te Giacomo. Sì. No, allora, come hai preannunciato, questa qui sarà una puntata in tema estate. Quando si parla di estate viene in mente, intanto parlando di orologi, quelli che ovviamente possiamo portare al mare, possiamo farci il bagno, possiamo immergerci. E poi ovviamente viene in mente il colore. L'estate si contraddistingue, sì che io vi ho preparato una carrellata di orologi. Non sempre colore e resistenza all'acqua vanno in comune accordo, sì che faremo una carrellata dei subacqui, che possono essere anche colorati, e poi dopo passeremo prettamente al colore. Va bene, allora io parto dai diver colorati e quando si parla di diver e di colore, qual è il marchio che viene in mente? Doxa! Doxa, eccolo qua. Questi qua sono due cronografi addirittura, due cronografi di colori particolarissimi. Un'altra caratteristica che io aggiungerei all'estate è le dimensioni, perché nell'estate si può tranquillamente indossare orologi sovradimensionati senza apparire fuori luogo. Questi qua sono il doxa con il classico arancione, cronografone, e questo blu qua che non è turchese, è un color metallizzato, veramente bello però. Ho scelto il crono per quanto riguarda il marchio doxa perché sono la novità, sono i crono nuovi sicché leggermente più piccoli dimensioni. Addirittura? Sì, sono dei 42 mm, a differenza dei precedenti che erano 44, e la particolarità, questi sono i nuovi quadranti, a differenza di tutti gli altri doxa, sono dei colori metallizzati. Ecco. Un'acqua marina e un'arancione metallizzato, colore un pochino nuovo. Poi è logico, rimane tutta la collezione con tutti i fantastici colori che la doxa da sempre propone. Molto, molto interessante. Diver, cronografo. Dai, ci siamo, questi qua sono promossi. Sempre carrellate di diver, puoi andare te un po' a scelta casuale. C'è sempre questo qua che l'ho recensito anch'io come orologio estivo, e non solo, non è solo estivo questo qua. Questo qua è una chicca con il calibro in house, svegliarino, subacqua a 300 metri. Questo qua va bene per l'estate perché ha gli accenti arancione, ma va bene tutto l'anno, è da mettere in collezione questo qua. Il Vulcan? Sì, tra l'altro a breve lo troverete anche proprio sul sito ufficiale Vulcan questo orologio. Ah, ecco, lo mettono direttamente. Se vorrete specifiche maggiori o vederlo direttamente sul sito ufficiale lo troverete anche lì, però vi premetto che lo potrete acquistare solo da me. Bello, bello assai questo, l'ho recensito anch'io. E poi sempre di quelli che ho recensito anch'io vedo che c'è il simpaticissimo Mido Decompression World Timer. Sì. Eccolo qua. Versione blu. Versione blu. Il quadrante è molto molto colorato con la sua scala di decompressione. Eh sì, c'ha le ore del mondo sulla ghiera, c'ha il GMT, eccolo qua la lancetta GMT, la scala di decompressione sul quadrante. Orologio che tra l'altro non ne ha nemmeno un prezzo esagerato perché si va poco sopra i mille, no? Sì. E quindi avere un orologio fatto bene, di marca, le complicazioni che ha questo orologio, tanta roba. Sì, due versioni, nero e questo blu. Ovviamente ho scelto questo perché è quello che rimane un pochino più colorato, visto che stiamo parlando anche di colore. Però per gli appassionati c'è anche la versione in nero. E poi a proposito di colore, soprattutto sui cinturini come al solito accade, io ci aggiungerei direttamente in coda il Tissot Sideral. Perché eccolo qua. È un altro che ho recensito anch'io. D'altronde ho recensito tutti questi belli orologi. E me ne faccio un vanto perché, insomma, questo qua mi è piaciuto molto. E anche questo qua è poco sopra i mille perché fa 1.075 di listino, eh? Sì. Di listino, di listino. È 300 metri. Sì, bello. Qui ovviamente predomina il cinturino a livello di colorazione. Esiste anche la versione gialla, la versione blu. Sono tutte bellissime. È un po' la novità del marchio Tissot per quanto riguarda l'estate. È veramente un bel prodotto. Cassa in carbonio forgiato. Non scenderemo tanto nei dettagli oggi. Tanto sono tutti orologi che Davide, in una versione o nell'altra, già ha recensito. Sicché potete andare a cercare le recensioni precedenti. Diciamo che è un recap. Un recap. Un recap con qualche aggiunta particolare. Aggiunta particolare. Sempre per i nostri marchi italiani che a noi piacciono molto. Ovviamente Fadaro ha preso due versioni molto estive, molto colorate. Una colorazione acquamarina simil Tiffany, se lo vogliamo chiamare così. È un verde cinturinato gomma, full color. Non solo il quadrante ma anche il cinturino in gomma abbinato. E qui abbiamo colore e ovviamente orologio da immersione. Anche questo l'ho recensito io. E ora qua io noto una differenza tra i due orologi che non è il colore di per sé. Ma il fatto che uno ha la ghiera in ceramica verde, mentre l'altro ce l'ha completamente in acciaio. Questa qua è una novità che io non avevo. Il tuo Piero com'è? Stavo guardando proprio questo. Questo qua? È acciaio o è una ceramica grigia? Ah, è una ceramica grigia. Sì. Molto probabilmente per creare più contrasto o per mettere in evidenza, come vedete, i dettagli della lunetta, hanno preferito usare un tono più basso di colore. Mi hai colto un fallo. Bene, è in ceramica anche questa qua. Perché è la particolarità di questi orologi qua di avere il design con personalità e la ghiera divisa in due settori, uno in acciaio e uno in ceramica. Molto carino questo inserto ridotto ovviamente che pende solo diciamo il 50% della ghiera. Visti questi poi ci abbiamo... GAB, Gruppardito, ha fatto una nuova colorazione, si chiama Turquoise, turchese anche questo se lo vogliamo dire. All'italiana, visto che è un prodotto italiano e siamo italiani, la base è un po' quella di un lince, però con questa colorazione è un pochino più sgargiante. L'orologio molto bello, è arrivato da pochissimi giorni. Bello questo qua, a dire la verità è bello. Sì, sì, veramente bello. Però c'è una particolarità che me la devi spiegare, perché io con i guanti sto toccando il cinturino e mi si aggancia. Di cosa è fatto il cinturino? Il cinturino... Ah, è veramente particolare. Sai che non lo so ancora, perché è talmente nuovo. Sarà squalo? Può essere. È veramente particolare questo cinturino qua, si vede che è artigianale comunque. Belli questi cinturini, va bene dai. Bello anche il fondello qua, simpatico eh. Con il sommergibile. Eh sì, probabilmente il modello lince è quello che si avvicina di più ai miei gusti eh diciamo. Anche il più contenuto di diametro e tutto. Bello, bello, promossino dai. Poi dove andiamo a battere? Poi dopo abbiamo due orologi molto diver, uno è uno ZIN, tiratura limitata. Questa versione qui era già stata proposta sul modello U50. Questo è un uno, un pochino più grande di dimensione, sì che è un pochino più aggressivo. Diciamo che l'involucro cassa e bracciale non sono molto estivi perché vedete è un pvd totalmente scuro. Però ovviamente viene usata questa madre perla. Solitamente le madre perle vengono abbinate agli orologi femminili. Qui la ZIN si è lanciata in un orologio molto tecnico, molto prepotente se vogliamo dire così, però con questo bellissimo madre perla azzurra che ricorda un po' il mare, le conchiglie. Sì, un quadrante spettacolare, leggibilità gigantesca perché tutti gli accenti neri, il contrasto con il quadrante madre perla è tanta roba. E poi c'è questa cassa e bracciale che sono completamente neri in pvd. Sì sì, pvd. Bello assai, bello. Meno estivo degli altri. Andando sempre avanti, sempre diverone, diverone è un pochino più sobrio perché un po' tutte le colorazioni che vengono sviluppate sul Capitan Cook full ceramica sono piuttosto scure, però l'orologio rappresenta molto bene il segmento dei diver. Ho cercato una colorazione un pochino diversa, sono uscito dai classici Capitan Cook in acciaio per proporvi qualcosa di diverso, qualcosa che non avevate, magari vedete un pochino più di rado. E questo è bellissimo. Oddio. Sì, molto molto carino, però ricordiamo anche che la stessa rado, il stesso Capitan Cook esiste proprio veramente anche in colori sgargianti. Per chi le volesse, c'è il verde, il rosso. A proposito di colori sgargianti, c'è poi sempre il classicissimo Oris Aquis, il nostro orologio, uno dei nostri orologi preferiti. Dai, l'Aquis ha sempre il suo perché. In questo caso c'è il quadrante blu, quindi nemmeno troppo sgargianti, anche sobrio direi. No, qui vi ho preparato tutta una serie di orologi, diciamo con colorazioni piuttosto classiche per quanto riguarda i subacquei. Sono dei segmenti di prezzo intermedi o non altissimi. Questo Oris, ricordiamo questa è la versione con il Sellita SV200, 300 metri di profondità, vetro zaffero, lo conoscete benissimo. Però per quanto riguarda il segmento diver, secondo me è uno degli orologi che esce con il miglior rapporto qualità-prezzo. E poi? Per chi vuole qualcosa un pochino più di tecnico, Tagoyer 1000 metri, ovviamente, valvola per l'espulsione dell'elio, bidibim, bidibam, di tutto di più, fa anche il caffè. Questo è bello. E questo è un orologio un pochino più prepotente perché vedete un diametro di 45 mm, lo spessore, visto anche la resistenza che ha, si alza, però comunque sia è un orologio con tanta tanta personalità. La protezione della corona qua è troppo granza, mi piace un casino. Bello bello, molto tecnico diciamo, possiamo considerarlo quasi un tool watch. Ecco, questa cosa qua, la valvola dell'elio è in espulsione automatica senza bisogno di svitare. E poi? Altro orologio che rappresenta bene l'estate, addirittura cinturinato gomma, Brightling Super Ocean. Questo ovviamente è il Super Ocean semplice che poi esiste anche la versione Elite Age che ha un aspetto un pochino più vintage. Molto particolare questi due toni di colore all'interno del quadrante. Esistono tra l'altro in diverse versioni, in diverse misure, in diversi allestimenti sia di cinturino che di bracciale. Avete l'imbarazzo della scelta. Io devo dire che questo qua è uno di quei modelli che quando è uscito non gli davo molto credito. Più passa il tempo e più lo apprezzo. Cioè è veramente particolare, non assomiglia a nessuno diciamo la verità. Gioca sulla geometria dei quadrati, dei rettangoli, anche la sfera lì. Devi abituarti a vederlo perché è bello alla fine. Molto bello. Secondo me è un quadrante che strizza l'occhio leggermente al concetto vintage, però con un involucro molto moderno. È un connubio di stili. Chiaramente le finiture eccole qua. Le vedete anche voi come sono la cassa. Mamma mia. Ok. Ok. Poi, sempre per rimanere sui Super Diver, chiamiamoli così, vi ho preparato ovviamente un Solar Acqua, un marchio che abbiamo inserito da pochissimo tempo. Ricordiamo che questo è un 2100 metri di profondità con valvola per espulsione dell'elio. Orologio veramente importante sia di dimensioni che di spessori. Di Redis. Prodotto molto tecnico, più per gli appassionati della vera subacquea che per, diciamo, l'orologio da passeggio. E questo qua è la versione in bronzo? Questa è una versione, vi ho preparato una cassa bronzo che sta molto bene con il verde, tornando al discorso colore. Poi c'è tutta una serie di allestimenti, sia in acciaio che su base bronzo, con diverse colorazioni di quadrante. Anche questo con la valvola dell'elio laterale per l'espulsione dell'elio è tecnico. Anche questo qua è molto tecnico. Questo qua è veramente il classico diver estivo, dai. Sì. O professionale, perché va bene anche d'inverno per gli usi professionali, diciamo così. Tanto così per creare uno stacchetto. Eccolo. Sempre un Divel. Linea Frogman. Cacchinevi Frogman. Particolarissimo, ovviamente identificativa di questa famiglia, è il Copicorona. Certo. Che tra l'altro fuoriesce svitando la corona, sicché ecco, a differenza del suo modello precedente, è un tutt'uno, diciamo, con il segmento corona e la cassa. E questo è sobrio, come colori è sobrio. Sì, sobrio, un aspetto un po' militare per questo allestimento col cinturino verde, però molto interessante. Questo qua è uno di quegli orologi che va per la maggiore, sicuramente. Bello, bello, bello. Il fondello come? Chiuso, aperto? Chiuso. Chiuso. L'ho già fregato e ce l'ha fatto chiuso con me. Un vero orologio da Sub. Poi, come si usa a dire nella briscola, abbiamo lasciato due carichi ora per la parte finale dei Diver. E abbiamo un Clashute Original CQ. Questa è la versione che, se non erro, è recensito anche te. Sì. La versione più piccola, 39 mm, con la data semplice. Poi ricordiamo che esiste anche una versione più grande con la grandata. Questa, questo forse, per il momento storico dell'orologeria, ha una portabilità migliore, è un pochino più in linea con le dimensioni che stanno andando ora, cioè sotto i 40 mm. Se io apprezzo più questo, nonostante abbia un calibro meno sofisticato rispetto al grandata, che ha veramente un calibro da paura, però questo è quello che ho recensito ed è quello che apprezzo di più. Eccolo qua. Io non mi ricordo se l'ho recensito nero o blu, credo nero addirittura, o quel bracciale. Però anche quel cinturino qua. Anche spesso sto cinturino. Sì, sì, un bel cinturino. Il Tropic qua. Sì. Molto bello. Sì. E' un orologio costoso che va a costare sopra i 10 mila, no? Sì, qualche spiccio lo so. Sopra i 10 mila, quindi ragazzi, ecco, 10 mila e 100, che poi 100 euro per il caffè ve li lascia Giacomo adesso. Sì, sì. Però è bello questo qua, anziché sempre i soliti noti, anzi uno di questi. Ok, e poi ovviamente parlando di orologi diver, è un orologio che è recensito anche di recente, ma non possiamo non parlare del re dei subacquei. Qua siamo andati a salire con... Sì, 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 abbiamo fatto una scaletta di prezzi. Sì, anche col prezzo, perché il prezzo qua è... 16. 16. 16 mila e 5,50. Qua ve ne lascia 5,50 per il caffè, ho detto. Eccolo qua, il Blank Pound 50 Fadom. Questo qua è imponente, è 45, eh? Sì. Anche 5 mm però. I diver devono anche essere grandi, no? Non è che dobbiamo sempre mettere quelli da 38 mm al polso. Questo qua è un diver con storia, con qualità. Ecco il marchio che la dice tutta Blank Pound. Quindi se volete sapere di più, andate su a vedere la mia recensione. Se ne volete sapere di meno, chiediamo a Piero. Scegliete voi. Grazie, grazie. No dai, bello orologio. E' un reminder, eccolo qua. Blank Pound 50 Fadoms. Sappiate che esiste? Ottimo. Poi, a questo punto ci possiamo anche dedicare un pochino al colore. Al colore. Al colore. Allora, colore partirei intanto per ringraziare le signore che ci seguono qua. Oh. E' anche giusto far vedere qualcosa a loro. Parliamo di Longines. Guarda bellini. Questi sono due nuovi orologi della collezione Master Collection con due nuove tonalità di colore. Potremmo definire un corallo e un azzurro cielo. Bei colori questi qua, eh? Sì, molto belli. Tutti ovviamente con i diamantini sull'indice per impreziosirli un pochino. Orologi con una portabilità molto buona, hanno la loro impermeabilità. Non grandi prodezze subacquee, però comunque si possono mettere sul polso e non toglierli mai. Sì, simpatici orologi da signorina. Guarda, questi qua. Perché se tra il pubblico femminile ci fosse qualcuno interessato, eccole qua. Questi. Con un Longines non si sbaglia mai, eh? Il diametro non lo so, ma sono piccolini. 35 saranno. Poi, è un orologio che abbiamo già visto perché, pur avendo colori molto particolari, è uscito in inverno. Però è un Eberhard Eiglon. Oh, ok. Orologio molto sobrio come forma, però molto particolare come colore. Siccome in questa fase stiamo parlando di colore, anche questo potremmo definire un bel color corallo. E perché non presentarlo in questa tavolata? Sì, se non mi sbaglio, di questa collezione qua ci sono anche gli altri colori turchese particolari. Sì, c'è un azzurro, un giallo, ecco, sicché si può scegliere. Questo allestito con questo cinturino vintage in pelle, ma volendo esiste anche il braccialato a ciano. Questo cinturino qua è veramente bello. Sì. Praticamente, come dicevo l'altra volta, in questo decennio qua, qual è il punto focale degli orologi? Quadranti colorati. Eberhard ci ha proposto la sua versione di quadranti colorati, come fanno tutte le case ormai. Non c'è verso. Cioè, qualsiasi orologio viene sfornato con un quadrante colorato differente. Sì. Poi, a questo punto, visto che stiamo parlando di orologi con casse abbastanza sobri, riproponiamo il nostro anonimo. Ovviamente questa colorazione che abbiamo voluto fortemente noi. è uno pseudo Tiffany, sapete che il Tiffany non si può usare perché è un colore depositato. Questa qui, nello specifico, è una cassa epurato, sicché una cassa a cuscino, con una colorazione particolare. Ovviamente viene dato in corredo anche un secondo cinturino, nello stesso in tinta con il quadrante. Sicché ecco, tutto colore, se volete. Ho fatto la recensione anche di questo, guarda caso. Quindi tutti i dettagli tecnici sono là. Vi basta sapere che è ancora disponibile e che è un'edizione limitata. Quindi ancora pochi pezzi. Poi ho preparato e ho scelto due Armand Nicolette. Sono due Pilot nello specifico. Un crono con una colorazione un po' più sgargiante di quadrante perché è un verdone. L'altro un colore un pochino più sabbia. Anziché non solo acqua, ma mettiamoci anche un po' di sabbia per l'estate. Sono due colori molto freschi. Visto il periodo mi sembravano idonei per la scelta. Quello verde ha una finissima lavorazione. Ma ha questo color sabbia che però a me sembra anche dorato, volendo vederlo. Sì, anche un po' cangiante. Ha una lavorazione goffrata veramente evidente, molto bello. Poi gli accenti delle sfere sono quelli che gli danno il tocco estivo. Ricordo che se volete ovviamente visitare il sito Armand Nicolette o il nostro avete tantissime varianti di colorazione su questi modelli. Il cinturino handmade fatto a mano e si vede, guardate qua. Guardate qua il materiale del cinturino. È fatto veramente bene, si vede che è roba di qualità. Questo orologio qua mi piace molto. Lo preferisco al cronografo, questo. Questo qua mi piace molto. Sì, 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 sì. Corona vita. Non è un diver ma c'è la corona vita. Buono, bello orologio questo. Dieci atmosfere, dieci atmosfere con cronavite. Buono, buono, buono. Poi ho preparato. Eccoli. Due Norkane, marchio che ovviamente è nuovo per quanto ci riguarda. Qualcosa abbiamo già fatto vedere. Qualcosa, se non mi sbaglio, hai già recensito anche te. Independence. Sì, questo è un Wild One. Caratteristica, cassa molto leggera. Sì che è prettamente adatta per l'estate. Se si vuole qualcosa da portare con più facilità al polso. La predominanza è del bianco colore molto estivo. E un cronografo con questa colorazione. Tra l'altro un cronografo in tiratura limitata. Con questa colorazione, come la possiamo definire, celestina. Sì, celestina, azzurrino, panda reverse, panda, somma. Bello, eh. Questo qua l'avevo già visto l'altra volta. Mi sembra che l'avevo anche provato al polso. Questo qua mi piace. Sì che orologi molto freschi, anche questi. Adatti per questo periodo, ma non solo. Ottimo, promossi anche questi due qua. ZRC. Questo qua perché hai lasciato fuori? 300. L'ho lasciato perché questo qui ha due tipicità o particolarità. Intanto il quadrante che sfuma in maniera verticale dal blu al nero. Sì. E poi questo cinturino giallone che si ritorna al colore. Qui abbiamo un connubio di cose. Colore e diver. Questo qua è bello. A me i ZRC mi piacciono un casino, ragazzi. Cioè, inutile da dire. Un orologio molto spigoloso che però rappresenta bene lo stile diver vintage del marchio. E qua vediamo, quando io ho fatto la recensione di quello col bracciale, praticamente qua vediamo quel pezzettino che va a filarsi dove la corona per poter poi adattare i cinturini. Quindi con questo pezzettino supplementare, poi si possono mettere anche i cinturini aftermarket che si vogliono perché poi la misura è questa qua. No, allora, tanto loro vi offrono da catalogo, e vi dico che non sono neanche molto costosi, una miriade di colorazioni. Sicché dagli scuri ai più colorati, giallo, arancio, bianchi, avete tutte le versioni di gomma e poi volendo avete anche tutti i cinturini in tessuto, i famosi nato, però originali del marchio da poter intercambiare. Niente, ZRC è un marchio che mi piace, gli orologi mi piacciono, c'è poco da dire, dai. Ok, poi abbiamo lasciato per ultimi una novità, sappiamo che a Davide non gli faranno impazzire perché sono grandi, sicché sono al Quartz. Quartz sono. Però abbiamo Piero, a Piero non ha detto che gli piacciono, sicché noi ce ne freghiamo di Davide e le facciamo vedere. Guardiamo questi orologi qua, sono i U-Boot. Sono i nuovi U-Boot Dark Moon. Ragazzi, a forza di farmi rivedere, poi... No, però sono simpatici, dai. Sì, questa edizione qui, molto estiva in queste quattro colorazioni, è veramente eccezionale. Ovviamente sappiamo che il proprietario di U-Boot, Italo Fontana, in primis è un grande designer di orologeria, e questa ovviamente è la sua rappresentazione del suo prodotto per quanto riguarda l'estate, i colori sono bellissimi. L'effetto lente dato dall'olio all'interno del quadrante secondo me è stupendo e magari se avete qualche remora nei periodi invernali per portare un orologio così sull'estate, questo qui è un prodotto eccezionale. E poi sono orologi che vanno per la maggiore, ne vendono, anche all'estero mi sembra che U-Boot. Sì, sta andando, i Dark Moon sono stati un po' il rilancio del marchio perché pur essendo dei quarzi però hanno trovato questo sistema estetico, perché alla fine è solo un vezzo estetico che però ha reso unico e totalmente particolare il prodotto. Ecco qua, qua c'è la batteria nemica, la vedete? Questa è la batteria nemica. C'è la due di batteria? No, allora uno è il tappo per l'olio e l'altro invece è l'accesso al vano batterie. Vi sveliamo anche un piccolo dettaglio. Inizialmente tutto il circuito compresa la batteria erano immersi nel liquido. Nella seconda versione, queste sono già le evoluzioni, la batteria è stata messa all'asciutto per semplificare anche le fasi di cambio batteria. Prima purtroppo andavano mandati in azienda e le batterie le cambiavano loro con un sistema abbastanza complicato. Ora invece hanno semplificato il tutto. Va bene dai Piero, dopo questa semplificata... Beh, me lo compri uno. Ma ma... sempre io. Io sono povero. Ho capito, va bene dai, poi vediamo. Allora, ho lasciato per ultimo due orologi, queste solo per dare informazioni ai nostri clienti. Sono rientrati, purtroppo e che qualcuno so che sta aspettando altre colorazioni, i Crono di Vulcan, soltanto neri al momento. Sono i primi che sono riusciti a riprodurre perché hanno ricevuto le meccaniche e ce l'hanno mandati. Sì che... Crono, quadrante nero, 38 mm, misura eccezionale, allestito in diverse versioni di cinturino. Io già qui ne ho due o tre di allestimenti, gomma, simil carbon, questo è stampa cocco. Yes. E poi, un piccolo orologio, straconosciuto direi, che è stato un po' un cult del marchio Longin. Cos'è, cos'è? Conquest Classic, 35 mm, è uno degli orologi che a me piace di più. Anche a me. L'altro giorno, quando abbiamo risposto ai follower che ci chiedono sempre il dress watch e noi diciamo sempre Junganz. Allora, l'orologio non è molto costoso, è un 35 mm che tra l'altro figura anche qualcosa in più rispetto ai 35 mm. Il quadrante è bellissimo, il fondello con questa stampa secondo me è unico. È come quelli vintage questo fondello qua. Sì, purtroppo, e dico purtroppo, questo orologio è ufficialmente fuori produzione. Cioè, tra un po' non si troverà più. C'è già un sostituto che non me ne voglia la Longin, ma a mio parere è meno gradevole rispetto a questo. E allora, per chi ovviamente ne abbiamo venduti tanti nel corso degli anni, ma per chi ovviamente volesse arrivare in corso all'ultimo tuffo, c'è ancora qualche pezzo, potete chiamarci per acquistarlo. Eccoli qua, il Longin Conquest da 35 mm, con la sua bella data a ore 12, che è particolare, a volte non piace. Vuoi sapere quanto costa Piero? Sì. 1.450. Vuoi comprare? No. Vi offro il caffè anche su quello, eh? No, non perché non vi piace, è bellissimo. È bello sì. Cavolo. Va bene, dai. No, Piero ha già detto che vuole un Dark Moon, che colore? No, io voglio robot. Arancione lo vuole. No, lo voglio giallo, siccome me lo devi regalare tu, a te piace il giallo, lo prendi giallo. Visto che il 18 è il tuo compleanno, mi regali robot. Abbiamo esaurito tutti gli orologioni. Abbiamo esaurito tutti gli orologioni. C'erano anche gli arretrati qua, ragazzi. C'erano anche gli arretrati. Sì, ragazzi, vabbè, non ci vado più in ferie. Oh, un paio di orologi me li fai provare a me. Ma li ha tirati tutti fuori, ce ne sarà qualcuno. Non so se è rimasto da casa in vetrina. Scommettiamo se io vado a cercare, li trovo ancora più belli di questi. Vediamo. Dai, lanciamo questa sfida. Lo trovo io. Ok. Allora, io voglio provare un secchino. Innanzitutto mi tolgo l'orologio, lo do a Piero, così non c'è bisogno che me lo ruba. Ma un giorno sarà meglio. Io questo qua voglio provare, quello lì azzurro, mi piace tanto. Mi è sempre piaciuto e io me lo prefiguro qua. Allora, Mini Marine Master quadrante spettacolare. Oh! Com'è questo l'orologio qua? Bellino. Com'è bellino? È bello. Guarda che quadrante c'è, non si vede? È quadrante. Eh, aspetta. Eh? Eh? I secchi sono bellissimi, però non ti ci vedo con un secchi. Perché? Eh... E prima o poi ve lo faccio un secchi così. Ma non ce l'hai già un secchi che hai comprato da poco? C'ho l'SKX usato, è del 2006, no? E tre leve. Questi qua sono orologi un pochino più... Quanto costa questo qua? Nemmeno tanto, però sono sopra, no? Eh, 1.350, è un altro livello. Guarda, ha visto che mi hai fatto aprire una secchi, ecco, ti faccio vedere un altro orologio che a me come abbinamento colore mi piace molto. Tra l'altro ho visto che non lo usa solo 6 con questo allestimento qui, lo usa un altro marchio che non ho, che non dirò qual è. Però è molto particolare. Questo è un classico Tartle. L'ho mai visto? No, infatti, con questa lunetta bicolore. Oddio. Tra l'altro, con un allestimento di colorazione molto particolare. No, è un diver. C'ha il verde nei primi venti minuti, no? Si. Eh, non l'ho mai visto, fino a volte lo vedo. Prendiamolo bene, a me piace. Questo Tartle qua quanti millimetri è? È proprio bello. Quelli lì dovrebbero essere 44 mm. Pensate come mi sta bene questi 44 mm. Si, perché il lag to lag non è eccessivo. È un orologio largo ma non a lungo. Fai posizione, Davide Cecchini? No, no, sto qua. È bello, cazzo. Va bene, allora se proprio vogliamo fare delle... Vogliamo far vedere delle cose... E cos'è la giornata Seiko oggi? Si, fuori dagli schemi vi faccio vedere quello che in Italia non lo vedete da punte parti. Punte parti. Questo che è un orologio che arriva dal mercato americano. E tra l'altro è un'edizione fatta apposta per la tutela delle tartarughe marine. E infatti il quadrante riprende il guscio delle tartarughe marine. Come vedete è una colorazione molto particolare anche quello. Cioè, qua mi viene... Più passa il tempo più la mia voglia di secco. Quello là mi piace di più. Eh, ma io qua vedo delle finiture sugli indici che sono veramente di livello superiore. E c'è adattario in kanji. In giapponese. Anche l'altro. Anche l'altro. Si dice kanji. Mangi, kanji, piangi. Ho vinto? Sei vinto, sì. Vinco sempre io. Hai vinto. Mi sta proprio bello sto qua. Tieni, altro orologio che non troverai sui nostri mercati. Tra l'altro in confezione speciale corredato da una torcia. Una torcia. Questo è un sumo. Un cassa sumo. La cassa forse è più voluminosa per quanto riguarda il marchio Seiko. Però quadrante veramente bellissimo. Mamma mia. Questo viene fatto in due colorazioni. Vi ricordo che non è per i nostri mercati grigio o azzurro. Veramente bello. Mi piace anche questo. Oggi è la giornata Seiko. Eh sì. Mi hai fatto aprire la vetrina. Mi hai fatto aprire la vetrina e devo provarli tutti. Emozionano sempre il Seiko. Ohhhh. Slap, slap. Bello. Tutti belli. Cavolaci. Piano piano mi sto appassionando anche il Seiko. Ci mancava questa. Eccoci. Quella dell'oncino ti è finita di passione? No. Ok. Ma lei ce lo sa. Ah ok. Ma lei ce lo sa. Ma poi basta. Vogliamo provare. Se vuoi guardare una vetrina è arrivato uno Zulu 39 braccialato. Allora guardiamolo. Ehm. Tira fuori la chiave. Ehm. Che lo mettiamo al borsa così la gente guarda un po'. Però il Legend Diver da 39 non te lo danno a te. Cazzi ora questa Longin. No ma io sento dire dappertutto che ci sono ritardi. Ah anche Karamai doveva presentare il Mark IV ora. C'era ora. E invece a settembre l'ha rimandata. Ahiaiaiaiaiai. Perché ci sono ritardi quando arrivano i quadranti. Si. C'è ritardi nei quadranti. Ci sono ritardi sulle meccaniche. Quei marchi dove si devono approvvigionare di pezzi da produttori esterni fanno un pochino più fatica. Il tuo follower mi ha proprio chiesto di questo sai. Voleva che facessi la recensione. Mi ha chiesto quando farà Davide la recensione. Ho fatto quello da 42. Ce l'hai da 42 e te? Ce l'ho da 42 e forse è a fine di tutti. Questo qua se lo porto via lo vede domani. Capito? Non posso portarlo via. Vabbè però facciamolo vedere ora. Si. Voleva sapere se secondo te è un bellorologio oppure no. Come se secondo me è un bellorologio? E come ti sembra? A me piace. Io però non sono te. Io non sono te. Cavoli. E allora dirlo che è bello. È bello. È bello. L'orologio è bello però secondo me se avete un pozzo come quello di Davide comprare il 42. Ah si? Si. Vabbè. De gusti bus. O uno o l'altro. Si perché laddove avete la possibilità di portare un orologio più grande soprattutto orologi che hanno l'inserto ghiera il quadrante respira di più su una dimensione un pochino più larga. Come il 38 mm del secco 5. O lo voglio provare. Io non l'ho ancora provato. Cioè dobbia tornare secco? C'è, 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 c'è. C'è fuori là. C'è uno sul banco. L'ho visto fuori là. Ecco questo per quanto riguarda anche estate colore forse è uno degli orologi più a buon mercato. Almeno che ho io in negozio eh. poi sicuramente ci saranno altri prodotti. Ecco qua. Seguo 5 è la 38 mm. Ora io per me, per il mio pulso è piccolo. Beh io lo dico. Per me è piccolo perché la... un 38 mm con la ghiera è molto più piccolo. No? Voi sta bene quelli da 42 e 43 normali che fanno. Però tanti apprezzano più questo 38 mm anche perché hanno il pulso più piccolo. Gli sta meglio. Bah. Però è bello questo colore erancione qua eh. Dai. È un secchino. Gli altri secco che ho visto là mi facciano impazzire eh. Costano sopra i mille però è un'altra roba. Cioè. Quello quanto costa? Questo qua costa 3,50 di listino. Ne voglio 3. Te li mettiamo 3 e te li mettiamo 900 euro. 3,6,9. Eh no. Non mi fa... Non ce n'è sconto. E comunque sia. Vi piace il colore. Volete spendere poco? Comprate gli swatch. Ho goffio. Eh sì eh. Ogni puntata. Io sono povero a comprare gli swatch. Ogni puntata fa la marchetta per Gisela. Noi mu swatch eh. No 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 no. Già spendete tanto è roba da fighetti. Lo swatch colorato. Ora hanno rifatto le edizioni dei primi con gli stessi colori ma sulle casse nuove. Ah dai? Sì. Dopo passo la tua moglie allora. Sì bravo. Dopo passo di là la mia moglie che te li fa vedere. Vabbè Piero sai cosa facciamo adesso? Sì chiudiamo la chiusura eh. Andiamo tutti a casa. Basta parlare di swatch e chiudere la puntata. Sì basta. Chiudiamo la puntata. Guardiamo un pochino. Uno due tre. Ella. Chi c'abbiamo dietro di me? Eeeh. Ci abbiamo il buon Giacomo. E' l'amico Piero che si nasconde. Salta fuori. Eccolo lì. Dove sono? Sono qui. C'è il mio orologio? No no no. Perché ti sta guardando? Non ti puoi guardare. Faccio lo zoom. Tac. Eccolo il mio orologio. Eh ti piace. Va bene dai. Cambio mano perché l'office l'ho scritto di qua eh. Allora ragazzi. Qua dalla gioielleria Pasquale Domenici in Viareggio direi che è tutto. Passiamo la linea allo studio. Mi sta rubando l'orologio ma ce ne faremo una ragione perché dopo lo recupero. Vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono. Quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love.